Brooke Shields, famosa attrice di Laguna Blu, dopo 40 anni di tempo va a infilare un nuovo paio di jeans e pose in topless, quindi senza reggiseno, ma col seno scoperto per la Jordache, che è un'azienda che si occupa di fare abbigliamento di tipo americana. La bella modella e attrice che per la campagna in questione è stata fotografata, Cass Bird, ha fatto sapere che per le foto non ha voluto, non ha utilizzato, non ha sfruttato alcun tipo di ritocco, è importante per me far vedere il mio corpo ai 56 anni di età, età a cui sono raggiunta, a cui sono arrivata. E' meglio essere onesti fin da subito, e noi lo siamo stati. Insomma, la bellissima Brooke Shields, con questo topless e conquista, ottiene un successo clamoroso, una bellezza florida e fisico ancora pienamente tonico, ma soprattutto una bellezza che ancora sa di piacere, sa di entusiasmare e sa soprattutto di ravvivare gli animi di tutti quanti, nessuno escluso. Bene, complimenti alla bellissima Brooke Shields, che nonostante il tempo si conferma una donna sexy, stupenda, magnifica, straordinaria, ma soprattutto dalla bellezza marcata. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentatevi, ciao a tutti e al prossimo video.